Come muovere i primi passi su Suprema 6.914 Una volta registrati e esserci trovati in questa schermata scegliamo la nazione che vogliamo giocare mi raccomando di scegliere tra le nazioni bianche e non tra quelle grigie che invece o sono già state scelte o non sono giocabili Nel mio caso per esempio scelgo il Canada del Nord Una volta entrati la prima cosa che dovrete fare è andare qui nella sezione risorse e cercare di stabilizzare le risorse Infatti se avete entrambe le risorse positive per esempio nel mio caso di grano e pesce allora va bene Però se per esempio in ferro e legno avete solo uno positivo cercate o di metterli entrambi in positivo oppure nel caso del ferro e della legna di stabilizzarli Mentre per quanto riguarda l'energia cercate di mettere in positivo il petrolio in particolare oppure il carbone nel mio caso diminuisco qui la produzione di carbone e adesso nel mio caso sono riuscito a metterli tutti in positivo invece se non riuscite a stabilizzare il grano mettete in positivo il grano e non il pesce che è quasi inutile A questo punto scegliete una provincia e iniziate a cliccare su costruzione cliccate su ufficio di reclutamento costruisci e qui si starà costruendo ci metterà 20 secondi chiudiamo e facciamo questa procedura sempre su costruzione ufficio di reclutamento in tutte le province queste qui gialle che abbiamo a nostra disposizione A questo punto dobbiamo qui in basso ci sarà la sezione rapporti dal fronte dove ci sono tutte le notizie che stanno accadendo nella nostra nazione A questo punto torniamo nella sezione risorse e vediamo in quale risorse siamo carenti nel mio caso ferro e legna adesso devo controllare nella mia nazione se c'è qualche provincia che produce o ferro o legna nel mio caso per esempio c'ho questa provincia che produce ferro poi c'è questa che produce legna ma meglio il ferro andiamo su costruzione e costruiamo un'officina di livello 1 ci metterà pochi secondi a costruirsi in teoria e dopo costruito un'officina di livello 2 ci metterà 8 minuti e passa a questo punto quando avrete ricercato l'officina di livello 2 potrete costruire l'autoblindo oppure la cavalleria e nella sezione aria qui potrete costruire il dirigibile a questo punto nelle province dobbiamo vedere questo dato qui infatti dobbiamo verificare qual è la provincia che ha il minor numero di tempo di reclutamento nel mio caso per esempio è proprio la capitale credo sì credo proprio sia la capitale allora in questa provincia se abbiamo il grano che fa più di più 30 all'ora allora andiamo nella sezione costruzione e costruiamo la caserma che diminuerà il tempo di reclutamento dell'unità di fanteria e però costerà una determinata somma di grano al giorno se in futuro non avremo più molto grano possiamo tranquillamente disattivarla cliccando sull'icona che si formerà qui in basso e cliccare su disattiva quando avrà finito di costruire l'officina di livello 2 andate nella sezione produzione e producete un'unità a vostra scelta se potete anche costruire la cavalleria se avete costruito una caserma nel mio caso produco l'autoblindo anche se vi consiglio di aspettare che finisca di costruirsi l'officina di livello 2 una volta fatte queste cose vi consiglio di andare nella sezione coalizioni e qui potrete scegliervi di unirvi ad una coalizione e un'altra cosa che vi consiglio di fare è di iniziare fin dall'inizio a conquistare le nazioni più piccole nel mio caso c'è questa nazione che si chiama Terra Nova che mi permette che potrò conquistare molto facilmente perché ha solo queste tre province qui e poi alcune qui in basso però state attenti mi raccomando state attenti ai vostri nemici che si trovano di sotto nel mio caso nei vostri nemici che confinano con i vostri territori per assicurarvi che non vi attacchino mettete nelle province di confine andate su costruzione e costruite un forte di livello 1 che ci permetterà di diminuire i danni che avranno le nostre unità in questa determinata provincia se per esempio il canale del sud ci dovesse attaccare se abbiamo un forte di livello 1 le nostre unità riceveranno più danno seguitemi su youtube e quindi qui Grazie a tutti